Quartieri che si trasformano in poco tempo. Grazie a 18 milioni di fondi derivanti dal PNRR, la ATER di Pescara, presieduta dal dottor Mario Lattanzio, realizzerà una vera e propria rivoluzione in fatto di edilizia popolare. Dai piani di adeguamento sismico alla riqualificazione energetica fino all'abbattimento delle barriere architettoniche per arrivare alla creazione di spazi condivisi. Un nuovo modo di intendere la socialità ma anche la reciproca assistenza, come capita in alcune residenze diventate best practice nel nord Italia grazie anche alle cooperative sociali. Pescara protagonista di un rinnovamento degli spazi dell'abitare. Tra gli edifici che subiranno una vera e propria trasformazione, i complessi di Borgo Marino Sud, i fabbricati di via Rubicone nel quartiere San Donato, nel piano di recupero anche un immobile di via Alcione a Pescara. E siamo circa 12 milioni di euro per il centro cittadino ma c'è anche la provincia di Pescara. Prevista una spesa di 2 milioni di euro per un intervento a popoli. Nel comune di Città Sant'Angelo il primo cittadino annuncia un successo vero e proprio. Una lunga interlocuzione che abbiamo avuto con il presidente Mario Lattanzio, che ringrazio, che in questi anni si è sempre reso disponibile. Avevamo fatto diversi sopralluoghi in queste strutture che non erano mai state toccate da lavori di ristrutturazione. Avevamo avviato questi lavori con la rimozione dell'amianto presente sui tetti. Questo però ha prodotto un inizio, poi successivamente a questo la progettazione ha portato all'apertura del PNRR a poter accedere a questi fondi. 5 milioni importanti per tutte le palazzine di via Iovine, via Iannucci e via Alzano che non vedevano veramente le ristrutturazioni da tanto tempo. Nella vicina Montesilvano invece al momento non c'è certezza e dire che in città una riqualificazione dell'edilizia popolare si rende davvero urgente. Cosa non ha funzionato è difficile stabilirlo e la ATER comunque fa sapere con una nota che ci sono altri fondi, circa 8 milioni di cui 1.720.000 euro dovrebbe riguardare proprio il comune di Montesilvano, in particolare l'edificio di Viale Aldomoro. Per ora si tratta di una graduatoria approvata con determina da parte della regione Abruzzo. Insomma il 2023 è partito a due velocità ma presto, da aprile fa sapere il direttore da Dazio potrebbe esserci lo sprint.